come risolvere il ripristino di alcuni file danneggiati attraverso il PowerShell e il prompt dei comandi quindi in descrizione ti ho lasciato un comando da inserire su PowerShell come puoi vedere ripareremo così alcuni file del sistema quindi andiamo un attimo su PowerShell esegui come amministratore PowerShell e andiamo ad incollare il comando CTRL V e fai invio riparerà così l'immagine di Windows ripristinerà alcuni file danneggiati nel tuo sistema e una volta fatto andiamo a fare una procedura sul CMD ovviamente sempre questo prompt dei comandi e PowerShell vanno sempre eseguiti come amministratori ok una volta fatto chiudi qua ovviamente una volta fatto tutto questo quello che devi fare è riavviare così il tuo sistema operativo e poi quando accendi il PC quando si riavvia e ritorni così sul desktop tu fai CMD esegui come amministratore e scrivi SFC perché questo SFC non possiamo procedere con l'SFC senza riavviare il sistema operativo una volta fatta quella riparazione dell'immagine disco su Windows quindi spazio slash scanno w alla fine quindi fai invio come puoi vedere per completare il ripristino di sistema quello che abbiamo fatto prima è necessario riavviare il computer e poi riavviare Windows ed eseguire nuovamente SFC quindi tu riavvi il tuo sistema operativo esegui come amministratore CMD e poi rifai SFC spazio slash scanno e farà così un'analisi del sistema ci vorranno 5-10 minuti rimani così che ne so AFK puoi rimanere il PC AFK aspetti una volta completata così l'operazione chiudi tutto e riavvii nuovamente il sistema quindi se questo video ti è stato utilissimo su come ripristinare alcuni file del sistema e aggiustare l'immagine disco di Windows iscriviti, lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao